bella a tutti ragazzi quest'oggi vi volevo parlare di un programma che onestamente è un programma che io ho utilizzato per molto tempo ma che non sapevo che avesse queste funzioni queste funzionalità anche tempo fa avevo sentito che praticamente si poteva utilizzare in un determinato modo ma non avevo mai provato e non pensavo si potesse fare pensavo fosse una bufala avevo sentito anche di una cosa che si potesse fare con il giroscopio di questa applicazione ma non pensavo fosse possibile poi praticamente più passava il tempo più mi accorgevo che c'erano certi player che avevano rinculo a zero veramente ragazzi rinculo a zero allora tu pensi ok magari gioca da mossa e tastiera magari è bravo a tenere rinculo ma con il passare del tempo questi player aumentavano sempre di più allora mi sono documentato un po' e ho scoperto che è il mio vecchio caro amico programma DS4 perché non lo utilizzo più perché adesso ho comprato da un po' di tempo già l'Elite 2 e quindi in automatico avevo smesso di utilizzare DS4 DS4 per chi non lo sapesse è un programma che serve per poter collegare il pad PS5 al pc all'inizio io avevo acquistato un pad PS5 dopo si è rotto adesso lo sono fatto prestare appunto per poter fare il video nulla vi spiego un po' come funziona questo programma vi stavo dicendo veniva utilizzato inizialmente per quello scopo adesso hanno scoperto come poter avere molto meno rinculo non dico zero rinculo molto meno rinculo nell'arma quindi avendo molto meno rinculo è molto più facile da controllare ovviamente allora vi mostro un po' DS4 vi lascerò ovviamente il link in descrizione questo è il programma nel momento in cui attaccherete il pad PS5 vi comparirà anche con il pad PS4 vi comparirà il pad ora io già ho settato un po' il tutto perché pensavo fosse più complicato onestamente quando ho fatto il settaggio anche se me lo ricordo abbastanza bene quindi diciamo che lo potevo anche fare con voi comunque vi mostro un po' il tutto allora questo è il pad andiamo su profilo io ho creato già i due profili ma adesso vi mostro come si fa voi vi troverete il profilo standard inizialmente senza nome ma poi lo aggiungerete a voi allora una funzionalità importante di questo programma che era quella che anche utilizzavo era quella di controllare il delay del vostro pad nel momento in cui andate a controllare ogni pad avrà un delay diverso di solito i pad PS5 si aggirano intorno al 3.5 allora andiamo su profilo e nelle impostazioni nelle impostazioni l'unica cosa che dobbiamo toccare nelle impostazioni del profilo standard è la dead zone che praticamente sarà soggettiva in base all'usura del vostro pad ovviamente vi accorgerete sia dal game che anche da queste statistiche se io muovo la levetta del pad le due levette vedete che i custodi si muovono se praticamente avete una dead zone un pad molto usurato la dead zone deve essere più alta quindi dovete controllare un po' voi per capire quale dead zone io utilizzo 0.05 voi dovete cambiare anche la dead zone qua utilizzate anche il 0.5 lineare ok dovete lasciare tutto standard andate su altro e dovete cambiare l'input lag massimo 1ms e l'emulatore potete anche lasciare xbox ma meglio forse mettere ps4 dualshock 4 non lo so mi hanno detto di fare così e penso che sia il migliore allora dopodichè ritornate salvate applicate salvate e andate su profili su profili andate a pubblicare il profilo standard vi uscirà un altro profilo io ho già rinominato 0 rinculo lo aprite nelle impostazioni di questo profilo dovete andare a mettere le add zone type da radiale ad assiale quindi andate a modificare questo valore questa impostazione e dopo andate a zerare questo valore questo valore questo valore e questo valore l'unico valore che ci interesserà è questo ovviamente magari ogni arma se ha più o meno rinculo cambierà questo valore ovviamente più rinculo avrà più lo dovrete alzare questo è quello che dovete fare anche in questo profilo è salvare ritornate sul profilo standard e andate a mettere su speciale azione andate a creare una nuova azione nel mio caso la modifico e vi uscirà questa schermata quindi se anche voi sparate con L2 e R2 dovete selezionare questi due tasti andate a caricare il profilo il profilo che abbiamo creato poco fa 0 rinculo mettiamo la spunta e salviamo il tutto ora dobbiamo guardare che sul profilo standard ci sia la spunta qui salviamo usciamo andiamo su profilo 0 rinculo andiamo su azioni speciali e dobbiamo guardare che sull'azione 0 rinculo la spunta sia tolta ora vi mostro un po' il tutto no quindi noi andiamo a creare per farvi vedere questo possiamo cancellare andiamo a creare un nuovo profilo nuovo new ok qua già vi chiederà il pad mettete un nome normale salviamo e andiamo a selezionare qui normale andiamo a prendere il nostro pad vi mostro in camera ovviamente non toccherò nulla andiamo a mirare sparare questo è il nostro rinculo delle memorie e allora intanto ricariciamo le funzioni andiamo a cambiare il profilo e lo andiamo a mettere su standard che è il profilo che noi abbiamo creato andiamo a chiudere qua ok il profilo si è attivato stessa identica cosa miriamo spariamo ok se ci fate caso il rinculo è andato un po' verso destra no anche qua andava verso destra ma tendeva molto di più a salire quindi quando voi mirate un bersaglio ovviamente con molta più facilità vi sfugge sotto mano i primi colpi iniziali soprattutto stanno tutti al centro quindi controllare un rinculo di un'arma in questo modo è molto più semplice sicuramente ve lo faccio rivedere e capite come molti player con questa impostazione riescano ad avere veramente zero rinculo nelle armi e allora come avete visto ovviamente il rinculo dell'M4 saliva alle stelle con quel determinato profilo il rinculo era molto più contenuto ok magari andava verso più il basso però i primi colpi erano veramente tutti al centro consideriamo che si tratti di un'arma senza nessun accessorio quindi è un'arma proprio con il rinculo al massimo quindi nel momento in cui noi andiamo a mettere gli accessori nell'arma cioè il rinculo diventerà nullo questo si spiega ok dovete lo stesso controllare il rinculo sicuramente però controllerete il rinculo cioè molto più facilmente onestamente a me la cosa che dà più fastidio non è chi li usa perché chi li usa a prescindere che magari la maggior parte di chi li usa è convinto che è una cosa legit perché non è ne vuole hack e nemmeno aimbot io penso che vuole hack e aimbot sono delle cose che ti danno un vantaggio assurdo e che rovinano l'esperienza di gioco agli altri ma questa cosa qua non è legit ragazzi non è legit nulla io spero ragazzi di essere stato chiaro ho tolto magari qualche dubbio a qualcuno che poteva pensare che ds4 non fosse qualcosa di che potesse rovinare come dire l'esperienza a multiplier io penso che la può rovinare perché una cosa legit è che tu giochi con le tue mani stop che sia da pad che sia da mossa e tastiera qualsiasi cosa ma l'importante è giocare corretti ragazzi io penso che nel 2022 ormai ci sono talmente troppe cose che ti fanno dubitare di tutti cerchiamo di essere un po' più corretti nei confronti degli altri va bene con questo è tutto bella a tutti e spero il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate sempre un like e iscrivetevi al canale bella a tutti e iscrivetevi al canale